E' una storia eterna che è llenata dell'alma, tanto se riposiente, è un romantico. Ma guardi, adesso non posso parlare. E comunque per tutte queste informazioni dovrebbe passare attraverso il nostro comune amico. Necessito il l'amputarmo. Adesso. C'è? Si chiama Grimaldi. Stai attenta. Buongiorno. Sono nelle sue mani. Telecomo tuo. E' un altro telefono. No, no, non è mio. E poi ti spiego. Ieri sono venuti i carabinieri. Hanno chiesto di lei. Bisogna non andare l'operazione. C'è stata un'equivoca. Non ci siamo capiti. Ci siamo capiti benissimo l'operazione conclusa. Cosa stanno facendo? Ehi, la città, ci stanno cercando. Ma tu dici solo cazzate? Ma che cazzo fai messo in un po' eh? Che vai a fare messi? Non possiamo sempre sapere qual è il limite del nostro intervento. Non c'è una regola. Io non sono tenuto a dare le spiegazioni. Certo che sia proprio un lavoro di merda. Io sto qua per te. Lei per me non è nessuno. Noi dobbiamo essere invisibili. Stranger 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 Stranger